buongiorno è sabato 10 ottobre devo di nuovo confutare l'ambrenetto perché qui siamo a rua augusta e ci sono i turisti questo è il negozio del portogallo del portugal che ha fatto vedere lui qualche giorno fa quindi ecco guardate il passeggio ci sono i locali ma ci sono anche turisti perché tavolini dei bar ci sono i turisti logicamente non è come l'anno scorso ma c'è movimento quindi non è spianatissima lisbona c'è gente guardate e sabato pomeriggio sono le 16 io adesso cammino per andare verso la mia destinazione alle spalle ho prasado commercio qui o qua guardate le persone che attraversano la strada c'è il passeggio non è spianatissimo ci sono i turisti che magari sono portoghesi ma alcuni sono anche giovane sono stranieri quindi lisbona con i turisti